1, 2, 3, 4, 5 Guarda Questa è solo il vento Questa è la grotta Ha fatto un sospiro La grotta in questo momento sta soffiando La grotta ha una superficie di 13 km Ha 37 entradas a salire Si considera una lamaja venentica La grotta in questo momento Parliamo del rilievo infrasonico delle grotte La grotta in questo momento La grotta di uscire vivi è sempre bellissima È sempre bello, non essere morti Aspetta, Emily, amore, fermati Non sono presi i guanti che c'erano lì Sì Davo, non concordo La grotta di uscire vivi è sempre bello La grotta di uscire vivi è sempre bello La grotta di uscire vivi è sempre bello Grazie a tutti Grazie a tutti